Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Continuiamo con i tutorial dedicati ad Halloween 2021. Oggi voglio proporvi un fuoriporta molto molto chic ma anche molto molto mostruoso. Ricordate il tutorial del fiocco nascita in fommi oppure del fiocco fuoriporta in fommi, se non li ricordate vi li metto sia qui che giù in descrizione. Bene, è arrivato il momento di realizzare lo stesso fiocco in versione Halloween. Se non avete il cartamodello o non riuscite a trovarlo, mi raccomando scrivetemi ed io ve lo invierò ovviamente in maniera assolutamente gratuita. Non mi resta che dirvi buon tutorial! Grazie a tutti! 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 A proposito di TikTok, li troverete tantissime, tantissime creazioni proprio a tema Halloween. Alla prossima! Grazie a tutti!